Musica Mercoledì 18 dicembre 2019, buongiorno, siamo in diretta sul canale 17 per la lettura dei giornali consueta del mattino. E prima però uno sguardo al calendario per il santo del giorno e poi le previsioni del tempo perché ci sono delle novità. E allora il santo di oggi, il santo è San Bunibaldo ma è anche il profeta Malachia, San Malachia. Il sole sorgerà alle 7.36 e tramonterà alle 16.33. L'inverno pare essersi preso una pausa, l'Italia è divisa tra piogge autunnali ma anche un caldo anomalo. Forte scirocco ma arriverà anche un intenso maltempo nella giornata di venerdì e neve copiosa sulle Alpi. Così scrive in prima pagina www.trebimeteo.com Il bollettino di oggi della protezione civile invece delle Marche prevede cielo sereno poco nuvoloso con nuvole basse al mattino e rapido dissolvimento per un transito invece di nubi medio-alte durante il giorno e per banchi di nebbia e nuvole basse in serata e in nottata. Le temperature sono senza variazione di rilievole massime, in lieve aumento invece i valori minimi della notte. I venti sono di brezza tesa sud-occidentali nelle zone interne e sud-orientali lungo il crinale. Attenzione alle foschie e banchi di nebbia in serata. Domani il maltempo. Il maltempo con deboli precipitazioni sparse maggiormente esistenti nei settori interni della regione e nel settore centro-settentrionale. Dal tardo pomeriggio di domani i fenomeni assumeranno anche carattere di rovescio. I venti saranno di brezza tesa. Per la giornata di venerdì avremo cielo nuvoloso con maggiori densamenti nelle zone di montagna ma soffieranno, e qui va sottolineato, i venti lungo la costa di brezza tesa sud-orientali nella giornata di venerdì. In collina e in montagna saranno di brezza tesa. Poi arriveranno venti raffiche fino a Burrasca nei settori alto-collinari e montani. Il probabile transito di una nuova saccatura nella giornata di sabato, scrive il bollettino, darà luogo ad un peggioramento delle condizioni del tempo con lieve instabilità residua nella giornata di domenica. Poi ci sarà un probabile ripristino delle condizioni di tempo stabile. Insomma, ad una settimana esatta dal Natale ancora sarà un po' difficile prevedere il tempo che ci sarà per il 25. Intanto, velocemente, le previsioni delle temperature per oggi alle 14, come vedete ancora, sono decisamente superiori alla media del periodo. Ancona con 16 gradi, Pesero-Fano 15, insomma, arriveremo a 16-17 gradi. Quindi sarà ancora, durante le ore centrali della giornata, sarà ancora piacevole, soprattutto per quanto riguarda appunto le temperature. E adesso andiamo a vedere i giornali. Cominciamo subito con il resto del Carlino. Questa mattina la pagina e l'edizione di Pesero. Berloni, è arrivata la soluzione, perlomeno si tenterà di chiudere entro gennaio, così dice il liquidatore. L'ottimismo di Alessandro Meloncelli, che è appunto il liquidatore, anche imprenditori locali, dice, interessati a comprarla. E sempre parlando di economia, di industria e di imprese, miracolo Eden viaggi. Conti ok e i dipendenti non saranno trasferiti. È dunque un momento favorevole per il tour operator fondato a Pesero. Marche Nord, Sanità, pronti i premi, duro incassarli. Poco tempo per le domande. E poi a centropagina la fotonotizia per la Guardia di Finanza, che sta controllando la dichiarazione dei redditi dei pesaresi. Ce ne sono una quindicina di famiglie che hanno dichiarato il falso. Dunque caccia ai furbi, la finanza setaccia i conti delle famiglie. Poi ancora in breve, in prima pagina, il concorso del 2021, capitale italiana della cultura, la città di Fano presenta la sua candidatura ufficiale. La cronaca chiede aiuto per salire le scale della chiesa. Un'anziana è stata scippata. E poi lo sport, il rinforzo per la squadra di basket della VL. Ecco Williams, domenica già in campo, contro Pistoia. E questo invece è il Corriere Adriatico, l'edizione di Pesero. San Decenzio, subito tutto esaurito, sold out, i nuovi posteggi per il mercato. Gli ambulanti chiedono al Comune un'ulteriore riorganizzazione degli spazi. Primo martedì di mercato con la nuova area, dunque parcheggio al completo. Già dalle prime ore era evidente un maggiore afflusso di clienti, favorito proprio dal nuovo parcheggio realizzato sul lato di via Mirabelli. E poi a centro pagina, per tutte le edizioni del Corriere Adriatico, quindi le Marche pronte all'inferno con l'impasse sull'A14, nessuna novità tra Pedaso e Porto Sant'Elpidio dove ci sono i viadotti sequestrati, l'esodo per le festività natalizie. Ecco le previsioni del traffico da venerdì prossimo. Poi verso le regionali nulla è deciso, Movimento 5 Stelle PD intesa ancora possibile. I referenti marchigiani dei 5 Stelle sono andati nella capitale proprio per discutere il percorso in vista delle elezioni del prossimo anno, tornando a casa con una porta lasciata aperta alle larghe intese. Pure nel Partito Democratico e dunque nel centro-sinistra sono in tanti ad auspicare questa alleanza. Il nome più spendibile sembrerebbe essere quello dell'ex rettore Longhi. Mentre a Villa Fastigi, in carcere, è stato aggredito un altro agente, un detenuto ha tentato di aggredire un agente della Polizia Penitenziaria, è accaduto nella giornata di domenica. Una ragazzina molestata, 18 anni, all'assalitore, palpeggiata al parco di Villa San Martino a Pesaro, il legale dell'uomo ha annunciato però il ricorso. Velocemente le edizioni di Ancona, in primo piano l'inchiesta sul comune, o meglio sul dipendente infedele, rivoluzione in comune, trasferiti due impiegati ritenuti vicini al funzionario arrestato per corruzione, per ora nessun atto disciplinare. Centro pagina, panettone indigesto, antincendio non a norma, la rabbia delle società sfrattate. Poi a Salvini, Salvini che sarà ad Ancona lunedì prossimo, un comizio in piazza e poi un pranzo veloce. Macerata, pronto soccorso, posti letto all'osso, pazienti in crescita per l'influenza, l'appello del primario Rossi, vanno evitati gli accessi impropri. Scacco alla banda invece i ladri che fanno i pendolari, fanno razzia di automobili, cinque arresti in Puglia. Nella fotografia il procuratore capo Giovanni Giorgio di Macerata e il colonnello Michele Roberti. Le pagine interne, andiamo subito sulla pagina di Pesaro, abbiamo visto in apertura, o meglio in prima pagina, il richiamo a questa segnalazione del sindacato autonomo di Polizia Penitenziaria, cioè il SAP che parla di un'altra aggressione avvenuta all'interno del carcere di Villa Fastigio a Pesaro. I detenuti come in albergo. Segnala un nuovo episodio avvenuto domenica con due agenti contusi nella colutazione. un detenuto italiano di circa 50 anni ha tentato di aggredire un agente, soltanto la presenza sul posto dell'ispettore di sorveglianza e di un altro collega ha permesso di bloccare il detenuto, ma gli agenti, una donna ed un uomo, sono rimasti contusi e sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari. Insomma, i detenuti, dicono quelli del SAP, evidentemente sono convinti di non essere in carcere a scontare una pena, ma in albergo dove possono fare ciò che preferiscono. Redditi falsi, 15 famiglie nel mirino, la finanza setaccia le dichiarazioni. Su 30 controlli tra il 2018 e il 2019, per la metà di questi c'è stata un'indebita percezione di benefit. Stiamo parlando di 15 famiglie di Pesaro che risultano aver truccato le carte con il fisco e non solo, hanno barato anche con il comune, apparendo povere quando la realtà era diversa. Quali sono i settori dove la tentazione di farla franca, la tentazione di fare i furbetti è più forte? Intanto sugli asili, le mense scolastiche, sulle graduatorie dell'Erap, sui benefit diretti del comune, su bollette, affitti e quant'altro. Ora, queste segnalazioni della Guardia di Finanza finiranno in procura. Per 12 famiglie si è trattato di una contravvenzione sanabile con la restituzione o con qualche sanzione. Tre invece famiglie andranno incontro a denunce penali. A Fano si continua a parlare di parcheggi, dell'aumento delle tariffe, dell'aumento del numero di questi parcheggi che da liberi diventeranno appunto a pagamento. Solo un modo per la Lega di fare cassa. La gestione di Aset pesa 250 mila euro. Lega pronto all'emendamento, dice, tra staff di serie e comunicazione, il comune spende la stessa cifra. Prendano quei soldi. Mentre sotto pescatori sensibili all'ambiente, in 200, aderiscono al corso. Isola ecologica per le navi. L'organizzazione produttori si mobilita per un gestore. C'è stato questo convegno presieduto dal presidente Tonino Giardini che ha visto la partecipazione del sindaco Seri, degli esperti del settore, che ha avuto un ottimo riscontro. Mentre Fano finisce anche negli itinerari della bellezza voluti dalla Confcommercio. 21 mila euro per brochure, per la BIT, la Borsa Internazionale del Turismo e TUR. I dettagli dell'accordo con l'associazione di categoria. Almeno 20 agenzie sono coinvolte con campagne anche sui social e su internet. La cronaca con questo incidente, di cui vi abbiamo parlato anche ieri sera nel corso del telegiornale, che è ancora in prima pagina su occhiolanotizia.it. Strike di panettoni, i panettoni sono quelli di cemento, con l'auto. Un'ottantenne finito al pronto soccorso. Uno schianto poi anche all'incrocio di Via Tomassoni, tra una bicicletta e un furgone, dove è stata ferita una donna, una ciclista di 71 anni, intorno alle 12.25, vicino al parcheggione del cimitero centrale di Fano. Ebbene, questa donna che stava attraversando le strisce pedonali in maniera corretta perché aveva la sua bici a mano, è stata urtata da questo furgone alla cui guida c'era un fanese, tutti e due del posto. La donna è stata portata al pronto soccorso, ma comunque non era grave. Mentre l'incidente di cui vi mostra la fotografia il Corriere Adriatico si riferisce a quello vicino all'ex zuccherificio, intorno alle 10.30, in una strada, a dire il vero, che è teatro spessissimo di incidenti. Il Carlino apre invece, sempre con la stangata parcheggi. La Lega va all'attacco sui 400 nuovi posti auto a pagamento in città. Per la comunicazione ai collaboratori di serie se ne vanno 250 mila euro. Poi racconta di una cena, una cena voluta da Federico Talecche, dal PD è passato a Italia Viva di Matteo Renzi. Volti note la cena dei renziani. A tavola spunta anche il sindaco. È passato per un saluto, ha detto lui, ai componenti di un partito amico e di centro-sinistra. Il tutto è avvenuto in un ristorante a Sassonia di Fano. L'altra sera, molti dei componenti provinciali di Italia Viva, quella formazione che fa capo appunto a Matteo Renzi, una serata dedicata agli auguri, organizzata dal circolo fanese della formazione guidata dall'ex presidente del Consiglio. Presenti esponenti di partito, di associazioni. Non c'era nessuno di Forza Italia, ha sottolineato uno dei commensali, come per smentire la vicinanza tra Berlusconi e Renzi. Come diceva, a guidare la serata Federico Talè, che ha lasciato il PD regionale. Bastione, Sangallo, Rocca e Teatro Romano, così diventeremo città della cultura. Fano si candida per il 2021, a diventare capitale italiana di tutto ciò che riguarda l'arte, ma la sfida non è facile. Però diciamo che ci si prova e questo è giusto farlo, anche perché Fano non ha nulla da invidiare a nessuno. Conto alla rovescia per il terzo capitolo degli Sbancati, 1944, questo è il titolo, in programma per le 4 del pomeriggio di sabato, l'attesa premiere del film Gli Sbancati, alla Cinema Politeama, l'ultima fatica cinematografica di Aere Secchieroli, il terzo capitolo della serie, e che è prodotto dalla Ego Film. Mentre sul fronte dei dipendenti del Berloni, Berloni si sono fatti avanti industriali locali, parla il liquidatore della società, che è Meloncelli, e aggiunge forse ci sono le condizioni per pagare tutto il mese di novembre. Maurizio Gennari del resto del Carlino ha parlato appunto con il liquidatore, il quale ha detto per le prime due settimane del mese di gennaio la situazione potrebbe risolversi. Diciamo che ci sono degli investitori, parlando di un'azienda che ha un nome, è molto conosciuta, anche a livello nazionale, ci sono diverse manifestazioni di interesse che però adesso vanno concretizzate. Inizialmente si parlava di un investitore taiwanese, lui risponde no, l'investitore non è di Taiwan, ma comunque è un investitore straniero. Poi parla anche di interessi da parte di imprenditori locali, da questo punto di vista sono tutte persone comunque ritenute serie, credibili, affidabili, anche quelli locali, ma adesso bisognerà vedere. È scongiurato lo spezzatino, anche perché la produzione è a Pesaro, non si può spostare, il marchio equidice, quindi il capitale umano e tutto quanto, teoricamente dovrebbe essere venduto tutto in blocco. Per quanto riguarda i conti del 2018, invece, attenzione, c'è un po' la sorpresa, non erano buoni, non solo, anche quelli degli anni precedenti, insomma un'azienda che non creava profitti, anzi, e dunque, insomma, non era come si pensava all'inizio, quindi un fulmine a ciel sereno, ma evidentemente, insomma, il fatto che non producesse profitti, che non creasse profitti, evidentemente, ha spinto questi investitori taiwanesi a mollare l'osso. Non si tocchi la Corte Alta, il Comune non deve venderla, siamo a Fossombrone, è la bella fotografia di questa struttura, che domina appunto la città di Fossombrone, non vendetela, è l'accorato appello, che viene dal consigliere di minoranza, Elisa Cipriani, secondo quanto denuncia l'amministrazione Bonci, avrebbe intenzione di vendere ad un privato una parte della Corte Alta, il complesso rinascimentale che è ospita la Pinacoteca Comunale e il Museo Archeologico. I video otte, qui siamo ad un processo che vede coinvolto un giovane di Lucrezia e la sua ex compagna. Ebbene, cosa è successo? È successo che questo ragazzo di 23 anni di Lucrezia, nel dicembre 2018, fu arrestato e rimase sette mesi ai domiciliari. L'accusa era abbastanza pesante, stalking, violenza sessuale, maltrattamenti, minacce, lesioni nei confronti della ex convivente, poco più che ventenne, la quale lo ha, però dopo la denuncia contro appunto il convivente nell'ottobre 2018, venne sistemata poi in una casa protetta, da dove però, a un certo punto, aveva ripreso a mandare sms spinti, hard, al suo ex ragazzo, oltre a video autoprodotti, e lo invitava a tornare da lei e a non parlare. Pochi giorni fa l'imputato è stato completamente assolto, questo 23 anni di Lucrezia, con formula piena, giudizio abbreviato, dal giudice Giacomo Gasparini. Perché il fatto non sussiste? Poi vi lascio il resto del racconto di questo processo, però nel frattempo, con il fatto che, insomma, questi video lo hanno scagionato, nel frattempo alla Procura della Repubblica non è piaciuta la consegna da parte della difesa di questo ragazzo al giudice, dell'indagine preliminare, di questi video e dei messaggini spediti dalla ragazza all'ex convivente. Così il 23enne di Lucrezia è finito nuovamente sotto indagine per violazione della privacy e per illecita interferenza nella vita privata della ragazza. Anche se i messaggini sono stati prelevati dal telefono del giovane. Il difensore dice è incredibile che si violi la privacy consegnando il proprio telefono. C'è qualcosa che sfugge in tutto questo, ma questo è. chiede aiuto per entrare in chiesa questa donna di 77 anni, Leda Romani, una donna pesarese, però il soccorritore evidentemente non aveva intenzione di aiutarla, ma di scipparla e così ha fatto, così è stato. Il soccorritore la scippa. È successo domenica il Cristo Re a Pesaro, vittima una pesarese, caccia ad un cinquantenne che le ha rubato portafogli e documenti. Poi, alcune notizie in breve, per gelosia, brucia la propria auto e denuncia un attentato, poi si pente, è stato condannato, mentre in Via Rossi una sbarte che attraversa l'incrocio e viene centrata da uno scooter ieri alle 3 del pomeriggio in Via Rossi, angolo via Manara e sotto arrestati i pendolari dei furti che rubavano tra Marche e Rimini in azione a Gabice e a Gradara. A Senigallia invece faccio una strage la madre aggredita dal figlio un uomo di Montemarciano si approprie di 31 mila euro in casa alle 2 di notte ha mostrato una pistola bloccato dai carabinieri ha chiamato la donna subito alle 2 di notte di lunedì ha chiamato il 112 e ha gridato aiuto mio figlio mi vuole uccidere e quindi i carabinieri sono subito arrivati hanno preso questo 46enne single incensurato affetto purtroppo da problemi psichici disoccupato da qualche tempo e che secondo alcuni conoscenti a causa di questo motivo avrebbe perso la serenità e quindi come dire è andato un po' fuori di testa poverino allora nel senso poverino lui poverina la mamma insomma capiamo le condizioni in cui si possano trovare in questi casi le famiglie che vivono e subiscono queste cose per il 2033 nasca l'alleanza con Ferrara Vittorio Sgarbi appoggia l'idea di Giorgio Londei la candidatura capitale della cultura europea va pensata in modo ampio mettiamo anche Ferrara in questa candidatura Vittorio Sgarbi non si tira indietro di fronte a questa richiesta di chiarimento da parte del consigliere Giorgio Londei e concorda nell'inserire anche la città emiliana nel progetto che viene coinvolto coinvolte sia Urbino che Pesaro quindi fare una cosa diciamo a tre mentre danneggiato un angelo decorativo sempre sulla pagina di Urbino questi angeli che ornano per il Natale la fontana di Piazza della Repubblica hanno subito un attacco uno di questi è stato pesantemente danneggiato e questa è la fotografia poi per il museo dello Zolfo 500 mila euro all'anno il parco museo minerario delle miniere di Zolfo delle Marche avrà a disposizione tutti questi soldi per il triennio 2020 2022 sempre da Urbino però il Corriere cardiologia fuga in Romagna liste d'attesa lunghe mesi per interventi una volta rapidissimi la storia di un utente costretto ad andare a Morciano Mercatelli consigliere di Montefettro Salute dice chi si ammala nell'entroterra è obbligato a girare tutta la provincia sotto invece si fingeva un agente segreto e figlia di un magistrato truffa le testimonianze di padre e figlio alla donna hanno dato 25 mila euro l'imputata è una donna di 53 anni abruzzese residente a San Marino e poi la pagina di Pesaro sempre del Corriere Adriatico si parla di di questo di Matera che sta chiudendo sta finendo il suo anno di capitale e dove andrà una rappresentanza il meglio di Pesaro e Urbino per per presentare la propria candidatura dunque Pesaro, Urbino e Fano come un tridente calcistico domani i due co-cappoluoghi sotto leggi della provincia sbarcheranno a Matera presentando alla vigilia della cerimonia di chiusura del suo anno di capitale europea il logo creato ad hoc per Pesaro-Urbino 2033 mentre Fano ha annunciato proprio ieri la sua candidatura capitale italiana della cultura 2021 insomma una voglia di sfoggiare il meglio delle proprie qualità e eccellenze che cade singolare coincidenza all'indomani di quella classifica però sulla qualità della vita che ha punito tutta la provincia di Pesaro e di questo parla l'articolo qui di spalla di Baiocchi del segretario comunale di Fratelli d'Italia che interviene proprio su questa classifica che sta facendo ancora discutere la classifica del sole 24 ore che ha visto la provincia di Pesaro in caduta libera al 53esimo posto è un lento declino dice Baiocchi scusate un lento declino ma quello che contesto dice lui è la mancanza di voglia di capire che c'è un problema fino a quando non capiremo che ci sono situazioni da risolvere dice ancora Baiocchi non si avrà mai la giusta attenzione per metterci mano ci ritroviamo in una situazione che se la rapportiamo al 1991 quando avevamo raggiunto il settimo posto siamo sprofondati la parte dell'ambiente e servizi ci penalizza tantissimo è necessario dunque intervenire non si può ragionare a slogan plastic free e ambiente e non fare mai nulla di concreto sulla sanità a differenza dei proclami di Ceriscioli il problema sanitario è gravissimo provincia regione per la carenza di personale pronto soccorso posto eletto liste d'attesa problemi dice ancora Baiocchi di Fratelli d'Italia problemi che stanno vivendo i pesaresi e chi abita nell'entroterra con la chiusura degli ospedali periferici spero che a Ceriscioli glielo facciano capire alle prossime elezioni regionali Valefoglia flash mob piazze e beneficenza banda Rossini ovunque musica dicembre ricco di eventi per il corpo bandistico del presidente del baldo velocemente la pagina della valle del metauro un bilancio sull'orlo del disastro siamo a Fossombrone chiuso grazie alla nostra eredità Val Cesano fondi per il cicloturismo con il patto del territorio a sera a Sant'Abbondio il GAL Flaminia Cesano ha illustrato il piano il piano dei percorsi Senigallia addio parrocchia di San Martino dal 31 sarà assorbita dal Duomo padre Giuliano dice finché sarò in vita però continuerò a celebrare qui la messa tutti i giorni ma almeno la madre per i soldi poi si barica in casa arrestato trattativa lunga 5 ore nella notte tra Marzocca e Marina di Monte Marciano è tutto per quanto riguarda la nostra segna stampa siamo in ritardo ci vediamo stasera alle 20 e 30 con il telegiornale vi ricordo alle 18 e 30 invece l'appuntamento con Babbo Natale per tutti i bambini e il concorso dei presepi al quale potete partecipare tutti quanti voi grazie per averci seguito buona giornata a tutti